e bentornati e benvenuti su go italia vorrei andare a fare la mia reaction a questa mod di cyberpunk che si chiama un record mod è una roba pazzesca vediamola vediamo subito insieme ragazzi è una mod di cyberpunk ma una roba cioè non si può non si può non commentare vedrete se se vuoi c'è sembra vita reale di questa moto c'è stato il reshade a un record bodycam nuova loot e cyberpunk 2077 hd workhead project come on out and let's talk come on punk come to papa no hard feeling oh 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 ah 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 No, 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 no! l'aggettiva è gioco qui gioco di poterlo giocare così questo dettaglio è assolutamente l'aggettiva l'aggettiva 4 4 4 una delle mod se non la migliore mod che abbiamo mai visto sicuramente la migliore mod che abbiamo mai visto su un superpunk l'aggettiva 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 un lavoro straordinario che è stato fatto da un modder metto tutto in descrizione se volete andare a vedere il suo canale una roba bellissima e come sempre un saluto a tutti da l'aggettiva ciao 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 ciao